in Australia terzo e niente, questa è Nanna, Nannelli, io lo vedrei bene con la motoretta ufficiale Nannelli dopo la strepitosa gara di Imola dell'anno scorso, wild card, il titolo italiano ha dimostrato ormai di avere veramente del grosso manico con la moto del team Pedercini ci ha già mostrato grandi cose, anche nell'italiano è stato secondo nell'ultima gara di Imola